Salve, un benvenuto a tutti in questo nuovo video dove faremo qualcosa di veramente carino. Andremo a visitarci il sito archeologico di Ercolano, ma lo faremo con una visita guidata, cercando di catturare, di raccontare, di far rivivere tutti quelli che sono i luoghi, gli avvenimenti e i racconti più belli che si nascondono in questa città. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.